Il serpente è un animale solitario, è un animale forte che può intimorire, ma che comunque trovo molto affascinante. Come i gioielli che fa Bulgari, fanno questo gioco di arrotolarsi. Da un'immagine potente al braccio, da un'immagine potente al collo che lo indossa, ma ha una sensualità particolare questa cosa del serpente.